Mr. Joy, il tuo canale di storie crime. Prima di iniziare il video iscriviti al nostro canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi video. Nel cuore del quartiere Brancaccio, a Palermo, tra le strade oscure e le case scrostate, si sono formati due giovani, Filippo e Giuseppe Graviano. Cresciuti in un'atmosfera di omertà e paura hanno assistito alle guerre che affliggono la città negli anni Ottanta. Palermo era una città controllata dalla mafia, divisa tra la nuova mafia dei corleonesi e la vecchia mafia. In mezzo a questo caos i Graviano emersero come figure di spicco, giovani ma determinati, pronti a compiere azioni brutali pur di affermare la loro autorità. Nel contesto di questa violenta rivalità, i fratelli Graviano divennero noti per la loro brutalità e mancanza di scrupoli. L'omicidio del presidente della regione Sicilia, Pier Santi Mattarella, nel 1980 fu solo l'inizio di una serie di attacchi brutali contro uomini delle forze dell'ordine, giornalisti, politici e cittadini innocenti. La città di Palermo sembrava un campo di battaglia, con omicidi e attentati che si susseguivano senza sosta. La strategia della mafia, guidata dai Graviano, divenne sempre più audace nel 1983. Attentati dinamitardi colpirono alcune delle città più importanti d'Italia. Firenze, Milano e Roma furono teatri di esplosioni devastanti, mirate non solo a uccidere persone specifiche, ma anche a danneggiare il patrimonio culturale del paese. La Galleria degli Uffizi a Firenze e la Galleria di Arte Moderna a Milano furono colpite, causando la perdita di vite umane e danni irreparabili ai tesori artistici. Un tragico evento che segnò l'apice della violenza fu l'assassinio di Don Pino Puglisi, un coraggioso sacerdote che si ribellò contro la mafia. Il suo omicidio, il 15 settembre 1993, nel giorno del suo compleanno, sconvolse la comunità e sottolineò l'estrema ferocia dei Graviano e dei loro complici. Nonostante la loro audacia e la violenza dei loro atti, ciò che stupì ancora di più fu lo stile di vita sfarzoso dei fratelli Graviano. Vivevano nel lusso, frequentando boutique esclusive e viaggiando in luoghi esotici. Nonostante fossero ricercati, non si nascondevano e facevano la vita da persone libere, apparentemente intoccabili. Tuttavia, questa sensazione di invincibilità venne a mancare nel 1994. L'11 gennaio di quell'anno, mentre cenavano con le loro famiglie in un ristorante di Milano, le autorità riuscirono finalmente a catturarli. Quel giorno segnò la fine di un'era di terrore e violenza inflitte dalla mafia, dimostrando che anche i più spietati criminali potevano essere portati davanti alla giustizia. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e iscriviti al canale. Grazie.